Dopo Prato e Verona, la provincia di Rimini è la terza in Italia a vedere nascere la rete delle professioni tecniche, il matrimonio tra gli ordini e collegi di ingegneri, architetti, geometri e periti industriali. Se fino a pochi anni fa ciascun professionista rimaneva chiuso nel proprio studio, oggi le sfide della società impongono una stringente collaborazione tra i vari ambiti della tecnica. A Rimini una collaborazione tra queste professioni è in corso già da tempo e adesso viene formalizzata con la firma di uno statuto comune. Direi che è una giornata campale oggi, mettiamo un primo cardine di una unificazione di intenti per dare risposte maggiormente compiute alla mappa dei bisogni anche della collettività. E come può migliorare invece il servizio per i cittadini con questa iniziativa? Il fatto di essere uniti in quelle tematiche che più ci legono fa sì che nell'attività tecnica e normativa nei confronti delle pubbliche amministrazioni possa essere coordinata in maniera più precisa e puntuale. Come è nata l'idea di questa rete? Il professionista oggi non può più essere un professionista singolo come in realtà poteva essere vent'anni fa. La professione si è evoluta, si sono evolute, sono aumentate molto le responsabilità agli oneri. È necessario lavorare assieme, ovviamente ciascuno con la propria identità e le proprie competenze, però a livello di esterno verso la società è necessario essere uniti.